La strada provinciale 53 San Giorgio Canavese L'impatto è stato alquanto violento, la moto è finta a terra con il conducente e il passeggero. Sul posto sono prontamente intervenuti la crocerossa di Rivarolo Canavese, l'elisoccorso del 118 e i carabinieri di San Giorgio Canavese. Feriti due motociclisti che sono stati elitrasportati all'ospedale CTO di Torino, uno in condizioni più serie, l'altro con una ferita al braccio. Il lesio è conducente della vettura e il bimbo ha certamente incorso sulla dinamica. Grazie a tutti.